presentiamo la serie numero due Lorenzo Dallatorre in uno, Thomas Becchiato alla due, Matteo Zoppellaro alla tre, Davide Guido di in quattro Alessandro Calcagni alla cinque, Luca Sini in sei, Giacomo Gatti alla sette Angelo Pallarò Lauto Alla tre, Davide Guido di in quattro Davide Dallacosta a trenta e zero tre il passaggio, completa in sessanta e ottantanove Monego secondo, uno, uno e ventiquattro al via, serie due Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti